Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella mattina dopo la partita, quindi dopo Milan Benevento, partita che ha visto i ragazzi vincere per 2-0 e queste saranno insomma le mie impressioni in un video molto breve, vi dirò cosa penso della partita di ieri sera ricordo che le reaction saranno sul canale Twitch Milan Inside, mi raccomando il link in descrizione e poi come è successo ieri ci saranno dei ricchi post partita soprattutto perché reputo che la live di ieri sera sia stata una live molto bella perché abbiamo avuto degli ospiti molto competenti, molto bravi a fine partita e dove si è riusciti a costruire dei discorsi molto intriganti e niente, quindi io vi invito a passare su Twitch anche perché ragazzi Milan Juventus è dietro l'angolo io vi voglio in presenza massiccia quando ci sarà per ti fare insieme i ragazzi e continuare a credere nel Cammino Champions League Cammino Champions che con la vittoria di ieri siamo tornati in seconda posizione, ovviamente dobbiamo aspettare che oggi, domenica, giochino ancora Atalanta, Juve e Napoli sperando in un passo falso loro, sperando anche magari in qualche ammunizione di qualche giocatore che è diffidato della Juventus anche se non possiamo fare affidamento solo alla partita che ci sarà domenica, ovviamente sarà una finale, sarà uno scontro, una sorta di finale però come citato ieri sera da uno dei nostri ospiti, la Juve quando c'è qualcosa in ballo di questo tipo in Italia non ha mai perso uno scontro diretto bisogna anche considerare il fatto che poi noi dobbiamo andare allo stadium in uno stadio dove per il momento noi non abbiamo mai vinto quindi dovrebbe essere un'impresa nell'impresa, quindi molto difficile quindi questo per dire che comunque sì, ok, dobbiamo dare il giusto peso alla partita che ci sarà domenica però dobbiamo anche ricordarci che comunque magari squadre come la Juve hanno ancora l'Inter e poi magari anche il Napoli, magari il Napoli qualche passo falso lo commetterà quindi noi dobbiamo rimanere concentrati e comunque pensare a vincerle tutte tornando alla partita di ieri sera, la prestazione in generale mi è piaciuta molto della squadra dopo la brutta partita contro la Lazio, molto più brillanti, hanno provato a calciare molte più volte in porta il gioco mi è piaciuto molto, fluido, l'unica cosa è che è una pecca che purtroppo ci portiamo avanti da tanto ovvero la finalizzazione, ieri sera a fine primo tempo potevamo essere già 3-0 sostanzialmente c'è anche da dire però che ok, noi abbiamo sbagliato quello che volete abbiamo beccato anche in serata Montipò perché ragazzi non si può non dire che Montipò ieri sera non sia stato bravo perché comunque in determinate occasioni la maggior parte su Ibrahimovic, comunque Ibra ha calciato come poteva e ha calciato bene, Montipò è stato bravissimo a intervenire, anche sul gol di Teo Hernandez comunque il tiro di Ibra era giusto, era teso a mezza altezza in diagonale, Montipò è stato bravo a prenderla poi nel tap-in per fortuna c'era l'Iteo comunque questo non voglio giustificare il fatto che sotto porta ci manca la finalizzazione perché ieri sera con tutto il rispetto che ho per il Benevento che anzi reputo una squadra che ha i mezzi per provare a rimanere in Serie A, comunque era contro il Benevento quindi ok, abbiamo vinto 2-0 ma se per caso, esempio stupido, noi domenica contro la Juve dovessimo andare in vantaggio 1-0 e si ripresentano delle occasioni del genere per andare avanti di 2-3-0 magari, esempio stupido non puoi permetterti di sbagliare queste cose qua sostanzialmente poi penso che arriviamo tante volte sotto porta riusciamo a calciare tante volte in porta quindi questo è il sintomo che il gioco, il modulo funziona la cosa quindi è che i singoli devono sbloccarsi un attimo di più con questa finalizzazione purtroppo è così ragazzi, in questa parte di stagione qua è fondamentale non sbagliare queste occasioni quindi tutto sommato non abbia rischiato praticamente nulla dietro molto bene, Tomori si è riscattato dalla brutta prestazione con la Lazio una cosa che mi ha fatto molto piacere di Tomori ieri sera è stato verso la fine tiro di Gaic ribattuto da lui ma fondamentalmente l'azione è stata la stessa che però contro la Lazio Correa ha fatto gol nel senso che è entrato in area, ha calciato, Correa ha fatto gol mentre Gaic no, perché? Perché Tomori ha capito l'errore che ha fatto perché Correa, con Correa doveva portarlo verso l'esterno e intervenire nel momento in cui vedeva che Correa alzava il piede per calciare mentre con Gaic ieri sera ha fatto così perché ha capito l'errore mentre con Correa è intervenuto tipo 20 minuti prima ad esempio e quindi poi ha avuto lo spazio per calciare quindi c'è stato un bel passo, un bel miglioramento una bella presa di coscienza, mi correggo da parte di Tomori dell'errore che ha fatto con Correa si è visto che si è migliorato e corretto subito con l'occasione appunto appena citata di Gaic detto questo è stata una partita tra virgolette tranquilla gestita bene, peccato per alcune occasioni troppo sbagliate poi c'è ancora qualcuno ragazzi che non mi basta, non mi convince più uno tra tutti è Leao, Leao ormai ha 4 partite, 5 partite per dimostrare che è da Milan ma fondamentalmente non l'ha fatto in una stagione dove comunque c'era bisogno di lui tranne qualche lampo in qualche partita però io ho detto sinceramente mi sono un po' stufato di Leao perché ieri sera ok, non è che abbia fatto chissà che forse ha giocato un po' meglio rispetto alle solite partite perché si è visto, si impegnava, correva e tutto però assolutamente non è sufficiente ci aspettiamo ancora tanto da lui quindi niente, nel complesso ripeto una buona partita adesso testa a domenica con la Juventus io vi ricordo che sul canale di Milan Inside faremo una live durante la settimana prima della live reaction di Juventus Milan vi aggiornerò tramite i miei social che trovate qua in descrizione tramite i social di Milan Inside che troverete qua in descrizione io mi raccomando ragazzi vi invito a lasciare un mi piace e a commentare questo video per supportare al meglio sia me che il progetto Milan Inside anche passare su Twitch e lasciare il follow al canale sarebbe veramente, veramente importante per questo progetto che sta già crescendo tanto quindi raga non mi resta altro che augurarvi una buona giornata vi aspetto più tardi con l'edit della reaction avvenuta ieri sera mi raccomando raga, un bel mi piace iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina e noi ci becchiamo a un prossimo video ciao a tutti raga